Filippo Busini, il Governo ha deciso, il pagamento della Tasi è stato posticipato a settembre. La Lega Nord è soddisfatta? Noi chiedevamo questo nell'interrogazione che abbiamo fatto ancora mercoledì scorso e siamo stati i primi a sollevare la questione. La soluzione è una soluzione un po' precaria, ma il problema è che l'impianto complessivo di questa legge è assolutamente sbagliato. Io credo che su questa grande confusione che è stata fatta sui tributi locali, in particolare sulla Tasi, il Governo Renzi rischierà veramente la sua permanenza. Siamo convinti che sia un pasticcio grande, difficilmente risolvibile. Questa proroga sposta i tempi, ma prima o poi arriveremo a stringere su questo grosso pasticcio che è stato fatto dal Governo Renzi.